Optima Italia nasce da un'intuizione innovativa e quindi da sempre è promotrice di innovazione, innovazione che semplificano la vita delle persone e per questo per noi è venuto molto naturale supportare un evento, un'iniziativa che non si esaurisce all'interno di una singola giornata, ma che è un progetto di ampio raggio, di ampio respiro che va avanti nel tempo e quindi per il secondo anno con grande orgoglio siamo main sponsor dell'Innovation Village. Per noi Innovation Village vuol dire contribuire all'evoluzione del paese, sostenere l'evoluzione digitale dell'Italia, apportare innovazioni che semplificano la vita delle persone, per questo ci troviamo sempre in sintonia con chi ha questo tipo di approccio al lavoro, alla professione e per questo motivo ovviamente ne sosteniamo tutto quanto il loro spirito di iniziativa. Per noi innovare vuol dire migliorare la vita delle persone, vuol dire supportare chi ha bisogno di poter pensare all'innovazione e quindi poter dare il libero scopo alla creatività nel creare poi appunto innovazioni che siano tangibili per le persone.